La Piaggio è sempre stata parte integrante della città, anche se al di là dei suoi cancelli si apriva un mondo completamente diverso da quello che era il mondo della città, nel senso che sì che le persone più o meno erano le stesse, però nello stesso tempo al di là dei cancelli, con le officine, con l'hangar, era tutto un ambiente di lavoro che sembrava abbastanza avulso dalla realtà cittadina. Era praticamente, in Piaggio mi è sembrato di lavorare in una grande famiglia, proprio perché la stragrande maggioranza delle persone quando uscivo poi nel paese le reincontravo al sabato, alla domenica, quindi era un rapporto che si prolungava poi lungo tutto il periodo della vita. Avevo vinto un concorso al Parlamento europeo e quindi ho dato le dimissioni e sono andata a lavorare a Bruxelles, altrimenti non me ne sarei mai andata nonostante la crisi, perché io in Piaggio sono sempre stata benissimo e ci avrei passato il resto della mia vita, però di fronte a questa opportunità ho fatto la scelta di andare via. Finale è una città d'eccellenza per l'aeronautica, per Piaggio ma anche per il generale Stefano Cagna che è stato nei primi del Novecento un importante avviatore e quindi sarebbe bello, io sto cercando di mettere insieme un progetto che permetta di far ricordare ai turisti, a tutte le persone che passano da Finale l'importanza, questa peculiarità di Finale per l'aeronautica, che poi si potrebbe estendere in generale a tutti i mezzi di trasporto, perché se andiamo a scavare nella storia di Finale, possiamo dire che la Piaggio è nata per i cari ferroviari, non è nata come azienda aeronautica, quindi come un'azienda di tipo ferroviario e poi la marineria pure è stato un settore molto importante nel finalese, coi cantieri navali, quindi abbiamo avuto cantieri navali, settore ferroviario, l'aeronautica e poi la Piaggio doveva nascere, l'area Piaggio in realtà doveva essere acquistata da dei signori che volevano farne un'industria automobilistica, esatto Mercedes, quindi veramente abbiamo toccato un po' tutti i settori della logistica, dei mezzi di trasporto a Finale. Siamo abbastanza agli albori, però abbiamo messo da parte un po' di cimeli, adesso stiamo cercando delle aree in cui poterli piazzare per poter fare, in attesa dell'angar, speriamo che un giorno ci venga concesso l'angar, però in attesa vogliamo comunque esporli al pubblico in varie zone di Finale per poter ricostruire la storia di questa grande azienda. Si spera che questo progetto di Finale Mare vada avanti, ovviamente impattando il meno possibile sull'ambiente, sul paesaggio, sulle cubature, sulla cementificazione, insomma lì ci sarebbe molto da dire, però la speranza è che sia fatto qualcosa di bello, che non deturpi troppo quell'area e che però appunto almeno l'angar, perché oltretutto l'angar anche da un punto di vista strutturale architettonico è molto importante, come anche la palazzina Uffici perché il loro progettista è stato l'architetto ingegnere Momo che ha anche progettato la scala elicoidale dei musei vaticani, quindi non è certamente l'ultimo arrivato e quindi è importante la salvaguardia di questo hangar come anche di altre parti dello stabilimento che storicamente e architettonicamente hanno una valenza molto importante, quindi sarebbe veramente un peccato da un punto di vista anche culturale doverlo perdere e poi partendo da lì costruire intorno un'area che dia alla città un respiro anche economico di un certo tipo, insomma che non venga visto soltanto come un'area in cui costruire dei grandi palazzi e basta, insomma che si tenga conto di quello che è stato e quindi anche il rispetto della storia.